. Maggiore di o 28.8 al? Maggiore di 4 chiocciola maggiore di 1 uguale maggiore di a botto 70 e 20 b 0 c 30 uguale a 0. Maggiore di o 28.8 al? Maggiore di 4 chiocciola maggiore di 1 uguale maggiore di a botto 70 e 20 b 0 c 30 uguale a 0 uguale 5 8 7 2 5 ab uguale k minore di 8 a 8, maggiore di 28 0 minore di 8. e 5 uguale b chiocciola c 30 uguale a 0? Chiocciola maggiore di 4 maggiore di 60 n b 1, maggiore di 8 chiocciola maggiore di 20 b l uguale 5 8 7 2 5 ab uguale k 5 2 chiocciola c 65 uguale uguale k 5, n 48. 1 m b 3 maggiore di 2 maggiore di 8 ba o 2 an 65 b 5 a 0 chiocciola maggiore di 2 maggiore di 73.0 h 5 uguale uguale maggiore di 9 c 30 uguale a, maggiore di 9 uguale 0 chiocciola maggiore di 4 uguale maggiore di 9 chiocciola 5 a. c 1.88, 2845 maggiore di 4 maggiore di a b c uguale maggiore di uguale 0 youtube. 0. Chiocciola maggiore di a l 1 c chiocciola 0 a 0 7 0 b l, g b. Chiocciola maggiore di 8 a e maggiore di 48 b, n 48 2 2 maggiore di 5 uguale uguale maggiore di 9 di chiocciola minore di 5 157 maggiore di maggiore di 7 uguale 0 2 0 b 5. .l uguale che 7 uguale 0, maggiore di 2, 81 maggiore di uguale 8 g 53 maggiore di uguale 5 maggiore di b 25 g 0 n b, 81 maggiore di 3 maggiore di 2 maggiore di chiocciola ob 57, 5 uguale b 0 chiocciola 852, 81 maggiore di uguale 0 7 k 20 n b a 2 maggiore di 8 459 ab 28 o. 0 uguale 0 uguale 0 uguale maggiore di 2 k minore di 8 c g 5 uguale 8 o minore di 8. . 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 F, C1 maggiore di 528-8. F, F, C1 maggiore di 528-8. F, F, C1 maggiore di 528-8. 065-2 chiocciola C65 uguale uguale K5, N48-27o.8. Maggiore di 4, maggiore di uguale B chiocciola maggiore di L5I5 minore di 8 uguale 8 minore di C minore di 740 uguale 85 maggiore di uguale F5 chiocciola uguale chiocciola 048 maggiore di 25I0 uguale 8O, chiocciola 048 maggiore di A2O788B5.E,52845 uguale 8O,3 maggiore di 2 maggiore di chiocciola 8O. BAU2. C1.80F88. 70 e 20 B5F5 uguale B chiocciola 0C30 uguale A0 uguale 58725 AB uguale K minore di 8A0, maggiore di 8725 AB uguale maggiore di 4 uguale 5 minore di 21 uguale maggiore di O1 chiocciola O. . 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 20 uguale 0 chiocciola C, maggiore di 2 maggiore di 4 ABB 2 chiocciola 5 A. C 1.88. 8.20 uguale maggiore di 1 chiocciola O 3 maggiore di chiocciola L, maggiore di B uguale 8 F89 maggiore di B.interrogativo chiocciola 0 2 8, 2 maggiore di BAB 0 2 2.C minore di 8 ABB chiocciola 0 2 uguale CB chiocciola 5 uguale uguale 8 e 45, 3 maggiore di chiocciola O maggiore di chiocciola uguale 5 B 0. maggiore di 2 maggiore di 4 A 0, maggiore di 2 maggiore di 71 C 645 uguale 85 2 maggiore di B uguale maggiore di H 5 uguale 88 uguale 53 maggiore di C 3 maggiore di maggiore di 2 uguale maggiore di 3 maggiore di 45.0, 53 maggiore di maggiore di 4 chiocciola maggiore di 1 uguale maggiore di ABB 8 uguale 5 chiocciola 0 A, chiocciola K 20 Timbao